Il paradosso dei gemelli è certamente il più famoso tra quelli sollevati a proposito della teoria della relatività. I due gemelli, Jim e Lee, passano tutto il loro tempo davanti ai videogiochi. Un bel giorno Lee dice al fratello Ehi Jim, sono stufo di questi giochi. Che ne dici di andare a esplorare l'universo? Non ne ho voglia, Lee. Vai tu, poi mi racconti. E così Lee parte da solo sulla sua astronave relativistica. Per sei mesi Lee viaggia quasi alle velocità della luce, esplorando lo spazio tra le galassie, mentre Jim resta a casa sulla Terra. Però che noia quest'universo, tutto vuoto, tutto uguale. Erano più divertenti videogiochi. E così Lee, stufo di esplorare l'universo, decide di tornare a casa. Inverte la marcia e dopo altri sei mesi è di nuovo sulla terra. Qui però scopre che, mentre per lui è passato soltanto un anno, il gemello Jim è invecchiato di trent'anni. Allora, com'era l'universo? Bah, niente di speciale. Beh, se non altro ti ha mantenuto giovane. Effettivamente si direbbe di sì, ma come mai? Beh, sei stato in viaggio a velocità vicina a quella della luce, quindi il tuo tempo è passato più lentamente. Lo dice Einstein, ricordi? Ah, già! No, no, aspetta un attimo. Per me, che stavo nell'astronave, eri tu che ti muovevi ad alta velocità. Quindi, secondo me, doveva scorrere più lentamente il tempo sulla Terra. Ma allora dovresti essere più giovane tu? Ecco il paradosso. Come mai alla fine è più giovane il gemello viaggiatore e non quello che è rimasto fermo a casa? Dopotutto, la teoria della relatività dice che il rallentamento degli orologi deve essere simmetrico. Se tu vedi rallentare il mio, io vedrò rallentare il tuo. Come si risolve questo paradosso? Grazie a tutti.